bentornati a marketing in edilizia questa puntata sarà tutta su un argomento molto molto particolare molto molto interessante ed è per questo motivo che ancora una volta abbiamo cacciato guido e con noi ho un ospite fantastico che ci aprirà veramente un mondo che è gianluca flaggello ciao gianluca benvenuto grazie buon pomeriggio a te o buona mattina dipende un attimo dai nostri nostri ascoltatori a che ora ci ascoltano va bene ascoltare questo podcast va bene a tutte le ore del giorno e della notte e oggi gianluca ci parlerà di una cosa importante lui è un copywriting strategist in marketing al millimetro quindi oltre a la propria di contenuti che servono per una strategia di marketing si occupa proprio appunto di tutta la parte strategica e oggi in particolare parleremo di una cosa basilare una cosa su cui gli imprenditori si arrovellano mattina e sera che è il processo di vendita anzi proprio la vendita ma questo lo vedremo dopo la sigla eccoci qui bentornati siamo pronti a partire perché oggi gianluca con te vedremo questo segmento che è fondamentale che poi un attimo quello su cui no tutti si interrogano su come migliorarlo su come farlo andare meglio su come anche automatizzarlo e moltiplicarlo che è il segmento aziendale della vendita e io con te voglio partire un attimo da una piccola provocazione perché noi ormai lavoriamo in questo settore da diverso tempo a diversi anni e a un certo punto stando fianco a fianco con gli imprenditori che lavorano nel settore dell'edilizia ci siamo accorti che c'è un piccolo problema e cioè che in moltissimi non distinguono la trattativa dalla vendita cioè pensano che siano la stessa cosa ma così non è giusto assolutamente no spiegaci un po allora dai raccontaci questa differenza e che cosa comporta poi non sapere questa differenza certo allora possiamo partire da due parole molto semplici che hanno bisogno di spiegazione l'evento e il processo un evento quando io vado a un evento vado a un concerto posso andare all'opera posso andare al teatro ma solo per l'evento ha un inizio e ha una fine il processo invece è un qualche cosa che ha delle caratteristiche diverse perché ha una ripetibilità una ciclicità un qualche cosa che ha sì un inizio o una fine ma non è qualche cosa appunto una talking come può essere un singolo rete prendiamo appunto il caso di un'azienda che vengono finestre oppure un'azienda che si occupa di ristrutturazioni con un cliente fai una ristrutturazione oppure fai un cambio di finestre è lavorato bene non avrà il cliente non avrà bisogno di riparla entro poco tempo quindi per il caso tu hai un evento e il momento in cui avviene la vendita come trattativa ovvero la persona entra in negozio magari è già stato presentato un preventivo c'è quella trattativa che ci auspichiamo che finisca con un sì ma è una trattativa singola un evento quando invece parliamo di vendita è chiaro che è molto più facile avere l'immagine mentale di io che sono tenuto al tavolo o alla scrivania del mio showroom con il cliente e quindi ho fatto la vendita perché poi il contratto è stato firmato ma se proviamo ad allargare il campo ci rendiamo conto che la vendita è qualcosa di molto più ampio non è un singolo evento ovvero la trattativa ma è un processo fatto di tanti eventi e certamente la trattativa è uno degli eventi centrati non a caso con questo bel libro che molti di voi conosceranno appunto artigiano nel digitale che è scritto da Guido Alberto in collaborazione con tutti i primi marchi di cammini però noi fondamentalmente partiamo da un dato fondamentale e lo cito proprio da lì credere che la vendita inizi quando sei davanti al cliente sei anche fisicamente davanti al cliente è una convinzione sbagliata se credi che la vendita inizi soltanto quando una persona barca la porta della tua attività o manda un email o fa una telefonata a quel momento in poi dovrai spiegare perché i tuoi serramenti o comunque i tuoi prodotti o servizi attigianali quindi in questo caso per attigiano noi tendiamo anche a fare situazioni che si occupa e dell'inizia sono da preferire a quelli dei due concorrenti in un certo senso questo ti costa un sacco di soldi tempo ed energie perché devi reinventare la ruota ogni volta quindi ritornando alla prima distinzione che abbiamo fatto tra processo ed evento evento è un evento simile processo invece se noi abbiamo vendiamo la vendita con un processo noi abbiamo prima che la persona entri in contatto diretto con noi certo abbiamo anche un durante che è una fase proprio dal primo contatto alla trattativa e quindi alla firma alla conclusione di una prima vendita e poi abbiamo anche il dopo però che cosa succede dal momento in cui la persona acquista da noi perché specialmente si può correre nell'errore che a rischio di pensare o prego a questa persona ho vendito una finestra ho vendito la ristrutturazione e ci vediamo tra x anni proprio perché non tornerà a comprare la finestra della ristrutturazione se tutto è andato come doveva andare ma questo appunto è una delle possibilità invece che intendendo la vendita in un certo modo ovviamente questo lo stiamo andando a presupporre già e dietro alla vendita ci sia il marketing certo ci arriveremo ci arriveremo erano scenari completamente differenti quindi praticamente adesso andando perché voglio andare un attimo a come dire colpire il punto un attimo di quello che hai detto no cioè entrare pochino nel pensiero dell'imprenditore di chi sta in showroom che un bel mattino si vede entrare un cliente che non ha mai visto una persona che non ha mai visto in showroom e crede che da quel momento in poi possa cominciare la sua vendita ma in realtà non è così perché la vendita appunto presupponendo che prima che si sia fatto marketing eccetera eccetera inizia molto prima giusto questo insomma volevi dire ok allora prima di arrivare a questa alla parola marketing che la parola la nostra parola preferita poi alla fine però è di cui parliamo molto volentieri e su cui facciamo riflettere molte aziende facciamo lavorare molte aziende io volevo un attimo così compiere con te questo percorso perché appunto chi ci sta ascoltando magari ha bisogno come facciamo un passo indietro e cioè e questo noi lo possiamo fare perché ripeto lo facciamo lo vediamo tutti i giorni in tante aziende in tutta italia volevo un attimo capire con te quindi tracciare punto per punto che cosa succede nella mente di una persona normale normale vuol dire un non addetto ai lavori in edilizia quindi un qualsiasi medico cameriere insomma le persone non addette al lavoro in edilizia che devono fare dei lavori in casa di tipo edile quindi magari dalla sostituzione delle finestre ad altro che cosa succede nella testa di queste persone quando hanno bisogno di questo prodotto servizio qual è il loro percorso che le conduce poi all'acquisto quindi il processo di vendita e quello che succede prima esattamente e non ce lo può e assumi ce lo vai per noi e soprattutto appunto per l'imprenditore di addezza e lavoro in edilizia è importante focalizzare è che quanto più noi conosciamo il processo di acquisto dei nostri clienti e potenziali clienti tanto più noi possiamo creare un processo di vendita efficace funziona che va sempre meglio e che ci consente di ottenere sempre migliori risultati per il semplice motivo appunto che andiamo a conoscere nel dettaglio le esigenze e i problemi dei clienti delle persone che vogliono fare una ristrutturazione vogliono cambiare finestre vogliono comunque migliorare il comfort della loro casa in questo caso dove possiamo vedere altri su noi stessi da un certo punto di vista la prima grave distinzione che possiamo pare o un'emergenza mi si è rotto un tubo in casa c'è una finestra che si è rotta ci sono dei problemi proprio gravi che richiedono un intervento del testo in quel caso sappiamo che il processo di acquisto è anche molto breve perché deve andare a intervenire su un problema che non posso permettermi di portare avanti per 8 giorni certo c'è un'emergenza assolutamente sì c'è un'emergenza quello che invece è quello che va per la maggiore è appunto un caso in cui io semplicemente ho un'esigenza di miglioramento in questo caso è diverso perché non sono lì pronto ad acquistare ma come sappiamo come ci raccontano proprio dalla tradizione millenaria dell'inizio esiste questa figura particolare che è il turista del preventivo che fa fare il giro delle sette chiese figura mitologica metà uomo metà preventivo sì esattamente e che in fondo cerca di puntarla anche magari con noi con la nostra ora chiunque anche chi adesso si trova all'inverno molto importanti di marketing che ha sistemato l'azienda sculturata conosce questo fenomeno almeno una volta si sarà trovato o per via diretta o per chi ha raccontato qualche collega o qualche personale comunque lavora nel settore ora che cosa succede c'è un modo in cui noi possiamo vedere effettivamente il processo di vendita con una grande efficacia per il semplice motivo e se noi lavoriamo prima con il marketing con la comunicazione online offline o anche addirittura con degli eventi fatti nel locale perché una delle caratteristiche particolari delle aziende che operano in edilizia come delle aziende di serramenti è la geolocalizzazione io tendo a fare a chiedere dei lavori o comunque a ricercare per le aziende che possano venire a casa mia che siano vicine dalla mia zona è tutta una posizione di prossimità e tutto quello che comporta la facilità di avere una persona pronta un tecnico pronto scusa Gianluca devo fare un attimo un link mentale noi abbiamo già trattato sfogliate la lista dei degli episodi di marketing in edilizia perché abbiamo già girato una puntata con Guido in cui parlano della grande fortuna di avere un business geolocalizzato quindi facciamo questo link e arricchiamo questa cosa esattamente in questo caso che cosa succede succede fondamentalmente che se io entro nell'ottica che quello che faccio con il marketing accorcia i tempi della vendita e anche della trattativa stessa quindi sia del processo di vendita anche del singolo momento in cui io mi siedo a capolino con il mio cliente per poter essere il cliente e faccio in modo tale che troviamo un accordo preventivo vendita e vado e si comincia con gli ordini di lavoro e tutto ciò che c'è da fare in questo caso io che cosa sto facendo sto facendo una vendita uno a tante perché nei momenti in cui io comunque tutta una serie di cose che il cliente vuole o non vuole o me le chiede in trattativa e quindi io dovrò ripartire appunto diciamo nel libro archeggiamento digitale io devo reinventare la ruota ogni volta perché la trattativa parte da zero dal momento che non ci sono informazioni che anticipano quello che accadrà in trattativa e quello che accadrà anche dopo se io invece faccio un marketing e posso inquadrare come una grande conversazione un grande servizio anche solo informativo prima battuta o anche una grande vendita fatta con i clienti con i potenziali clienti con le persone che sono esposte al mio messaggio io faccio in modo tale che tutta una serie di obiezioni che ne arrivano in trattativa vengono già smontate e venendo smontate prima che cosa succede che o il cliente non me le fa in trattativa o anche se me le fa è già stato in qualche modo educato quindi anche più facile fare in modo tale che queste obiezioni vengano risolte e che si trovi un accordo win-win e quindi una condizione che vada benissimo per voi e vada benissimo questo è il motivo per cui si dice spesso e volentieri nel settore che ogni volta che devi fare una vendita se hai fatto marketing parti dall'80 per cento se non l'hai fatto riparti dallo 0 per cento tutte tutte le volte insomma questo è un attimo la razza la razza è questa cosa qui e secondo me è importantissimo adesso noi siamo reduci dall'ennesimo terremoto no del esatto bye bye bonus a tema a tema sconto in fattura eccetera eccetera e questa cosa è ancora più importante adesso che si sbarca nell'era post dei trazioni e dover rifare tutto da capo un come dire un lavoro del genere non che non si possa fare grazie a dio diciamo una delle cose fantastiche del marketing che tu puoi prendere e cominciarlo in qualsiasi momento della tua vita aziendale fermo restando che ci siano dei requisiti che attengono la gestione di cui avevo parlato in altre puntate e di cui stiamo parlando anche con con margherita perché ha visto le puntate precedenti però comunque insomma se già hai fatto marketing se in questi due anni di allucinazione collettiva io la chiamo così l'allucinazione collettiva ti sei mosso anche nel senso del marketing sicuramente non ricominci dallo 0 per cento ma da una percentuale un attimo un attimo più alta che insomma ti dà una mano a sbarcare tutto intero questo pianeta posto dei trazioni su cui stiamo stiamo arrivando no sei d'accordo assolutamente sì è considerato appunto quello che dicevamo prima per il business geologizzato noi sappiamo che in questo caso ci sono anche delle barriere meno potenti rispetto a un business nazionale vuoi per gli investimenti vuoi per bacino d'utenza vuoi per tutta una serie di caratteristiche certo soprattutto noi l'abbiamo visto con tantissime cose anche impensate dallo stesso impensabile per lo stesso imprenditore pensava ok ma chi vuoi che legga la mia guida e poi ci viene a dire che c'è stato il signore che l'ha avuto dalla finita dell'amnita e che se l'è letta sotto l'ombrellone a perragosto ha chiamato ha detto io ho letto la guida e voglio comprare le finestre da te è vero questo è un mandato che ci dà proprio il polso reale quello che può essere l'impatto a livello locale quando si verificano due condizioni uno è stato costruito il posizionamento di marketing e delle strategie di marketing che sono funzionali e coerenti all'azienda al tipo di cliente al mercato e anche orientate poi alla concorrenza due l'imprenditore titolare dell'azienda proprio perché opera a livello locale ci ha messo la faccia e questo è stato un acceleratore e un moltiplicatore proprio di virtù del pacchetto voi non vuoi soprattutto se operi in centri urbani che non sono giganteschi già ti conoscono molti e quello diventa semplicemente un moltiplicatore e un acceleratore delle cose che già hai fatto funzionare il passato perché molto spesso il marketing non è una rivoluzione assurda ma è andare innanzitutto a trovare quella singola cosa che può portare recitati immediati e poi crescenti e esponenziali nel lungo termine e poi anche veramente un'operazione di organizzazione sia delle informazioni e delle attività che si fanno in azienda e che si fanno contemporaneamente in tandem con l'agenzia che si fatti ora pensavo un attimo parlavi di chiarezza proprio nel processo di vendita no? cioè andando un attimo così a volerli riassumere noi perché ci sta ascoltando spesso e volentieri noi assistiamo a questi due schemi lo schema del cliente che è la persona del potenziale cliente che ha bisogno di un prodotto o servizio cerca chiama quell'azienda che magari ha letto di cui ha letto di cui ha trovato i contatti fa domanda chiede e dopodiché attende che l'azienda risponde e molto spesso se l'azienda non risponde è il cliente stesso cosa assurda raccontata così però succede è il cliente stesso a fare follow up cioè a richiamare per dire oh ma allora mi mandate questa cosa che vi ho richiesto questo in un caso nell'altro caso invece magari c'è un'azienda più sollecita che magari un pantitello più organizzato e che quindi fornisce subito un preventivo o quel che sia comunque una risposta iniziale al potenziale cliente il problema qual è appunto e quindi il follow up lo fa l'azienda il problema a questo punto proprio qual è il problema è che il cliente come hai detto tu prima essendo giustamente molto spesso un turista del preventivo nel frattempo ha collezionato sta ricevendo il follow up di tutte le aziende che ha che ha che ha contattato e quindi a quel punto si tratta di nuotare nel mare magnum di aziende come la tua che fanno le stesse cose tue e da cui e da qui devi distinguerti come fai a disti come da come fai a dare lo strumento al tuo potenziale cliente per distinguere te dagli altri che ti hanno inviato le risposte questo è questo proprio il problema cioè il segmento diciamo in cui inserirsi e in cui potenziare il proprio posizionamento alla propria presenza la propria voce è proprio questo cioè è come dire intercettare il viaggio del turista del preventivo che poi può essere un turista del preventivo che tocca 100 tappe che ne tocca 5 è identico è la stessa cosa non cambia nulla perché comunque così come gli strumenti non ce l'ha quello che va presso 5 aziende non ce l'ha ugualmente quello che va presso 100 aziende non non è non è questo il punto il punto è proprio la presenza il punto è lavorare prima il punto è far cominciare la vendita prima che questa persona richieda ti chiami per richiedere il preventivo c'è prima che entri in contatto con te segmento su cui andare a lavorare è proprio quello lì è proprio quello che fa la differenza giusto e questa cosa a livello geolocalizzato fa una differenza sostanziale abissale come diceva gianluca il fatto che l'imprenditore ci mette alla faccia va bene senza è sempre un'arma incredibile a meno che non ci siano determinate condizioni o determinati obiettivi di una certa natura da raggiungere ma soprattutto a livello geolocalizzato metterci la faccia cari imprenditori dovete prendere un pochino di coraggio e come dire rendervi conto che ce la potete fare ecco insomma è un'arma un'arma pazzesca genera subito fiducia genera subito adesione e aiuta rafforza tantissimo il posizionamento non tedevi questo prima vero sì 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 assolutamente chiaro che poi questa cosa va insieme a tutta una serie di altre cose perché il primo dato che possiamo prendere è nella maggior parte dei casi è facile sentire l'imprenditore che un po' così lamenta che deve fare tutto lui o comunque tutte le cose devono passare da lui anche certe cose il dato reale è tu la faccia ce la metti già oltre alla faccia ci metti gli occhi ci metti gli orecchi ci metti le mani su tante cose quando si tratta poi di sbarcare eri digitane o comunque di fare delle attività per cui si crea il tuo sito internet c'è la tua faccia c'è una nuova foto tu cominci a pubblicare sui social facciamo una guida dove si vede la tua faccia eccetera eccetera quindi in realtà noi stiamo andando ad organizzare una cosa che da un periodista dell'esposizione è già operato è chiaro che immaginiamoci un po' con una scena paradossale ma neanche troppo un imprenditore ci mette la faccia ma il suo messaggio è qualità, fortesia, siamo i migliori abbiamo un fantastico rapporto qualità prezzo andiamo a un certo punto perché l'importante è che io metta la faccia su un messaggio e su un posizionamento di marketing che io ho costruito in modo tale da dare perché è molto forte, molto convincente e soprattutto che metta in evidenza una differenza tra ciò che io faccio e ciò che fanno gli altri concorrenti rispetto alla quale io veramente assumo una posizione di preferenza assolutamente questa non è la cosa più facile del mondo non è un caso che noi abbiamo scelto che nel nostro processo proprio di acquisizione di ERI facciamo in modo tale da mettere il cliente in condizione di partire da questo elemento che tocco con una consulenza perché se viene un cliente e gli dice fatemi una pubblicità ma per assurdo da una prima intervista viene fuori che noi nella pubblicità dobbiamo dire o almeno nella sua testa il messaggio sarebbe qualità, cortesia, siamo migliori, siamo di intervistitore, tradizionale, innovazione questo renderebbe il messaggio inefficace basta poco per andare ad estrarre quella che è l'unicità e la differenza dell'azienda anche se l'imprenditore effettivamente è chiesto davanti alla semplice domanda perché le persone comprano da te? Perché io dovrei comprare da te? gli risponde ma sai non ci avevo mai pensato alla fine facciamo tutti quanti la stessa cosa vediamo chi è se vediamo le situazioni no per fortuna non è così e proprio per il semplice fatto che tu hai una tua storia una tua identità e hai un'azienda che riflette questo noi facciamo un lavoro di estrazione e di costruzione proprio funzionale a far emergere questa differenza che già c'è non puoi dare vai vai scusa dicevi non puoi anche confrontarti con i tuoi miei alza la tornetta, chiama tutti i clienti che hanno comprato da te nel 2022 trovo ovviamente un momento che sia comodo per entrare per parlare e dirvi perché avete comprato da te? come mai avete scelto noi? avete già altri preventivi? basta fare una ricerca di questo tipo qua e già si apre una strada veramente non è una conclusione ma è comunque l'inizio di un percorso che può effettivamente accendere tante la pagina della testa dell'imprenditore cosa che ti nadava per scontato questo significa per noi quando noi spesso nei nostri canali quindi nei podcast ma anche nei blog che scriviamo sui nostri canali di marketing al millimetro parliamo spesso di liberare il tempo dell'imprenditore significa anche questo cioè fare in modo che l'imprenditore si concentri sul processo di crescita della sua azienda e si liberi un attimo da quella che è proprio l'operatività e spesso e volentieri l'operatività grava così tanto sul titolare che lui perde di vista il perché le persone confrano da lui cioè è un processo di riflessione sulla propria azienda che manca molto spesso proprio perché il tempo dell'imprenditore non è libero per fare l'imprenditore di fatto cioè fare la vita che cosa persona il titolare d'azienda si è scelto di fondo e quindi automaticamente non raggiungere il suo obiettivo e ecco perché abbiamo voluto proprio dedicare questa puntata alla differenza tra la trattativa e la vendita che è una cosa che deve stare nella testa del titolare deve stare nella testa dell'imprenditore perché poi sarà lui ovviamente se hai in testa chiaro il processo lui sarà lui a poterlo distribuire ai suoi collaboratori a chi si occupa del commerciale a chi si occupa di vari segmenti operativi nella sua azienda perché questa cosa poi riesca ad andare col tempo ad automatizzarsi e in quel senso significa proprio moltiplicare tantissimo i canali di profitto in maniera assolutamente esponenziale allora Gianluca io ti fermo qui perché tu sei molto generoso sei un po' troppo generoso quindi guardate a parlare poi metti dentro tante cose e quindi devo frenare la tua generosità ma sicuramente ti avremo ospite in un'altra puntata perché mi hai già detto che tu vuoi parlare di una cosa fantastica vabbè a me piace tutto quindi non faccio testa però di una cosa molto interessante quindi ti aspetto sicuramente alla prossima puntata grazie mille di essere qui grazie a tutti e ci sentiamo alla prossima alla prossima